Molte donne quando mi contattano mi chiedono ma come posso avere il parto che desidero? Perché c'è mio marito che non vuole che partorisco a casa, la mia famiglia che non mi supporta, mia mamma che preoccupate e se succede qualcosa cosa faccio? E riflettevo proprio su queste domande e voglio condividere con voi la cosa più importante da fare. Quando hai un desiderio, vuoi quel parto, vuoi il parto in casa, vuoi il parto in ospedale naturale, il parto in acqua, qualsiasi sia il parto che tu voglia, cosa fare? La chiave, la cosa più importante è fare il lavoro di connessione con te stessa. Cosa significa? Significa ritagliarti ogni giorno del tempo per te per notare, fare attenzione, osservare quello che c'è dentro di te, che succede dentro di te. Una sensazione fisica, un'emozione, un pensiero che si ripete. Cosa succede se ti siedi per un minuto, due minuti e porta attenzione al tuo corpo dentro di te. E vi faccio degli esempi perché, per esempio, io mi sono svegliata, non stavo benissimo, ero stanchissima, avevo la luna storta e quindi sono andata a fare una passeggiata. Mi sono seduta vicino a un albero, avevo il mio diario con me e ho iniziato a chiudere gli occhi e per qualche minuto stare in silenzio a osservare che pensieri ho, se ho qualche emozione e se l'emozione è dentro di me, nel mio corpo, in qualche posto particolare, se provo del dolore o no. E ho cominciato a scrivere e questo è uno delle maniere per essere connessa con te stessa. E so che per molte persone è difficile e se è la prima volta che inizi a fare, farlo per un minuto, due minuti, poi fai una pausa, rifarlo di nuovo. E davvero rallenta, rallenta, questa è un'altra chiave, no? Un'altra cosa importantissima, rallentare. Farlo con tantissimo amore e con tantissima gentilezza. A me quello che aiuta anche è andare in natura, sedermi vicino a un albero, guardare l'oceano, mi aiuta lo yoga, la respirazione, sono degli strumenti che possono aiutare la connessione verso se stessi. Aiuta anche a parlare con un'amica o con qualcuno che davvero non è lì per salvarti, ma per ascoltarti. Quindi ecco, questa è la maniera per iniziare a prepararti verso il parto che vuoi, ascoltarti. E cos'è che davvero c'è dentro di te, non ascoltando fuori le paure delle altre persone, le opinioni delle altre persone, ma cos'è, cosa c'è dentro di te? Cos'è che vuole venire fuori, essere espresso, essere scritto, essere danzato, essere mosso col corpo? Ecco, connettiti e vedi se quello che c'è dentro di te appunto vuole muoversi, vuole essere espresso e farlo. Questa è la prima cosa importante per connettersi con se stessa e per fare quel lavoro interiore con se stessa, perché tutto risiede dentro di te. E una volta fatto quello, una volta che sei connesso con te stessa, che ti senti confidente, che ti senti sicura, non confidente, sicura con te stessa, dentro il tuo corpo. E allora inizia a non sentire, ma a visualizzare il tuo parto, il parto dei tuoi sogni e a sentirlo con ogni cellula del tuo corpo, proprio a... Fai come se sta per avvenire, avviene, è lì, lo manifesto e fidati che quello è il tuo parto ideale, il tuo parto del sogno. Quindi ecco, questi sono i primi step che vi consiglio. Prima di tutto, ogni giorno siediti, cammina, vai in natura, stai qualche minuto con te stessa in silenzio. Scrivi, danza, muovi quello che senti. Non essere attaccata al pensiero o a quell'emozione, ma buttalo fuori, vedi dove ti porta. E dopo che ti senti più al sicuro con te stessa, ogni giorno acquisisci quella sicurezza dentro di te, inizia ad ascoltare di più il tuo corpo e questo è quello che ti poi collega ad ascoltare le tue intuizioni. Ed è questo quello che vogliamo durante la gravidanza e il parto, ascoltare le intuizioni e gli istinti, l'istinto. Quindi è parte da ascoltare te stessa per qualche minuto al giorno. Ogni giorno ascolta te stessa cosa ti vuole comunicare, il corpo, le emozioni. E piano piano vedrai che acquisisci quella confidenza e quella sicurezza per ascoltare le tue intuizioni. Le intuizioni vengono recuperate ed è lì che è quello che ti permetterà di avere il parto che vuoi. Grazie per l'ascolto. Grazie per l'ascolto.